Ehm, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo inizio video, io sono Mau, oggi siamo qui perché andremo a completare la sfida di Akomen della settimana 5 ragazzoli dove ci chiederà raccogli il tridente di Akomen a cada corallina 1 su... 0 su 1 scusatemi completando questa missione potremo ottenere il nostro carissimo piccone tridente di Akomen e la skin Akomen ragazzoli quindi questa sfida sarà abbastanza semplice, non si sa ancora la posizione tridente poi vi farò vedere 3 possibili posizioni su dove trovarlo visto che qua ne dice 0 su 1 adesso vi faccio vedere 3 posizioni diverse, tutte vicine fra loro dove potremo trovarlo ragazzoli vi ricordo che sto registrando il video prima che le missioni escano ragazzoli vi faccio vedere questi 3 punti poi se non lo trovate in uno di questi andate magari a cercare l'altro tanto in questi 3 punti deve essere per forza quindi ragazzoli ci troviamo proprio qui a cada corallina qua vicino al mulinello gigante proprio qua vicino troveremo questo diciamo pietra sospesa in acqua come potete vedere qua proprio qui sopra come potete vedere c'è un punto abbastanza strano questo qua con delle pietre sopra come potete vedere qui molto probabilmente si potrà trovare il piccone di Akomen ragazzoli quindi guardate questa prima posizione dove si potrebbe trovare molto probabilmente eccoci qua vicino a sabbie sudate guardate un po' vicino alla barchetta degli spettri proprio qui ragazzoli guardate un po' poi faccio vedere tutta la zona di cada corallina eccoci qua ragazzoli faccio vedere bene dove siamo qua vicino alla barchetta da sabbie sudate poi ragazzoli andiamo a vedere il secondo punto che molto probabilmente lì si potrà trovare il tridente eccoci qua quindi ci buttiamo sorvoliamo cada corallina che per adesso non ci interessa e proprio dietro troveremo la nostra seconda pietra ragazzoli eccoci qua andiamo ancora dobbiamo girare di qua eccola là quindi ragazzoli andiamo lì questo qua potrebbe essere il secondo punto dove potremo trovare il tridente guardate che figata ragazzoli queste pietre sono spese in aria poi qua sotto ci sarà Atlantide una roba fighissima raga eccoci qua qui il secondo punto dove potremo trovarlo eccoci qua non si sa ancora in quale di questi tre punti si troverà comunque una posizione ce la dovrà avere sicuro eccoci qua ragazzoli quest'altro punto ci siamo spostati veramente di poco dal primo punto eccoci qua ragazzoli abbiamo oltrepassato l'isoletta di cada corallina quindi da questa pietra qua che era la prima abbiamo fatto tutto sto tragitto e siamo passati alla seconda proprio qui sempre vicino al mulinello questa volta più vicini all'isoletta ragazzoli eccoci qua invece terzo e ultimo punto dove potremo trovarlo ci mettiamo a nuotare eccoci qua andiamo comunque ragazzoni le posizioni sono tutte vicine fra loro quindi veramente semplice da poter trovare e conditare questa missione in una di queste dovrebbe essere sicuramente eccoci qua quindi noi cosa facciamo saliamo sopra quest'ultima roccia che vola eccoci qua ragazzoli e qui potrebbe essere il terzo punto su dove potremo trovare il nostro carissimo piccone di Aquaman ragazzoli eccoci qua questa volta siamo vicini proprio allo squalo eccoci qua guardate un po' eccoci qua quindi tragitto vi rifaccio rivedere siamo passati da questa parte qua abbiamo fatto tutta questa parte qui siamo arrivati al secondo punto di interesse per il tridente e adesso siamo arrivati al terzo punto quindi alla terza parte vi ricordo ragazzoli che il tridente non è ancora specificato in quale dei tre punti sia però ecco qua le posizioni in cui lo potremo trovare spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo sempre di lasciare un like, comment, iscrizione e condividere con i vostri amici se non hanno capito come completare la missione sempre vi ricordo che sto registrando i video prima che le missioni escano quindi non si sa ancora precisamente in quale punto sia supportate i miei soggetti con il mio codice creatore socialmau noi ci becchiamo in un prossimo video bella rega grazie a tutti